...del Santo Padre, amici e servizio. Alla riprende a suoi, Santo Giorgio Monaco, amministratore di Ministra, che oggi è di per i suoi signori, che giocita soverne nel monastero Santa Speranza della San Benedetto del Pronto, il Santo Padre Papa Francesco, che vuole giudizio in tronco di amoggiare, mentre assicura la sua tropa e la persona Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.